Un grido silenzioso nel cuore, una richiesta di perdono per il popolo di Dio. Papa Francesco li ha portati dentro di sé in una mattina di sole caldo a Dozwiecin, la città polacca a 60 km da Cracovia, che gli occupanti nazisti nel 1939 ribattezzarono Auschwitz, entrando nel più grande campo di sterminio nella storia dell'umanità. Lo ha fatto nel giorno in cui, 75 anni fa, il francescano polacco San Massimiliano Kolbe offrì la sua vita in cambio di quella di un altro prigioniero. Con un grido nel cuore, il pontefice ha pregato in silenzio nella piazza dell'Appello dove Kolbe ha compiuto il suo gesto ed ha baciato il patibolo delle esecuzioni. Poi è entrato nel cortile accanto al blocco 11 dell'ex campo, dal 1947 trasformato in un museo visitato da più di 30 milioni di persone. Ha salutato e abbracciato 12 superstiti, usciti vivi da un luogo dove sono state uccise più di un milione e centomila persone, tra i quali più di un milione di ebrei europei. L'ultimo ha consegnato al Papa una candela che Francesco ha utilizzato per accendere una lampada posta accanto al muro della morte, dove gli uomini delle SS trucidarono migliaia di persone con un colpo alla testa. Con un grido silenzioso nel cuore ha pregato per le vittime della Shoah e per tutte le vittime dell'odio e della guerra, prima di scendere nel seminterrato del blocco 11, dove si trovavano le celle della fame, nella quale i detenuti venivano condannati ad una morte lenta. Papa Francesco è entrato da solo nella cella 18, quella del martirio di San Massimiliano Colbe, e si è raccolto in preghiera davanti alla lapide commemorativa e la candela lasciata da Giovanni Paolo II nel 1979. Prima di uscire dal blocco ha firmato il libro d'onore ed ha scritto una preghiera in spagnolo. Signore, abbi pietà del tuo popolo. Signore, perdono per tanta crudeltà. Quindi il Pontefice si è spostato nel vicino campo di Birkenau, costruito dai nazisti, distruggendo il villaggio polacco di Brezinska. Qui si trovava la maggior parte degli impianti di sterminio, quattro forni crematori con camere a gas. Il Papa si è spostato con la vettura elettrica lungo i binari della ferrovia utilizzata dai treni che portavano i deportati al campo di sterminio e ha raggiunto il monumento alle vittime delle nazioni. Qui è passato davanti alle 23 lapidi commemorative, ognuna in una delle lingue delle vittime. Per sempre lasciate che questo posto, vi si legge, sia un grido di disperazione e un avvertimento per l'umanità. Ha pregato in silenzio e ha deposto una candela accesa. La cerimonia si è conclusa con il canto del rabbino del Salmo 130, il De Profundis, riletto poi in polacco dal parroco di un paese della Polonia dove viveva una famiglia cattolica che fu sterminata, compresi i bambini, per aver ospitato e salvato ebrei. Al termine il Papa ha incontrato 25 giusti delle nazioni, intrattenendosi brevemente con ognuno di loro.